Finalmente dopo tanti viaggi in giro per il mondo riesco a tornare un po' a casa e a godermi anche quella che è la mia città. Quindi oggi con la Color Run di Rimini riuscirò a vedere il lungomare e anche la spiaggia da un punto di vista diverso, che è appunto quella del riminese, del cittadino che scopre la città per la prima volta in modo diverso con una manifestazione molto importante per la città. Questa qui è la vera corsa di condivisione perché siamo in 12.000, di solito corro da solo o solo con due o tre runner. In questo caso forse è la prima volta che riusciamo a correre e a condividere con così tante persone la passione per la corsa, che in questo caso qui non è solo corsa ma è un gioco, diventa un gioco. Correa Naturale è un progetto che vuole portare a quanto più persone il benessere attraverso la corsa e il movimento. Vedo che anche Europe Assistance con il progetto Corricone vuole fare lo stesso inserendosi in contesti di corsa e questo è stupendo, quindi il punto di contatto c'è assolutamente. Passato! Alla fine la corsa è un po' come il viaggio, quindi correre con qualcuno è come fare un viaggio insieme a una persona, una persona con cui si sta bene, con cui si condividono certi momenti e questo è quello che mi è piaciuto della manifestazione del Corricone. Medirimini è un consorzio di operatori turistici che lavora per dare delle vacanze personalizzate sia a gruppi organizzati sia ad individui. Il punto di contatto per noi è l'aggregazione che è fondamentale nel nostro lavoro, nel senso che per noi la vacanza è viaggio, la vacanza è conoscere nuovi amici e poter fare nuove esperienze, quindi avevamo voglia di partecipare a questo progetto e Corricone potrebbe diventare anche il nostro claim. Corricone potrebbe diventare anche il nostro lavoro, nel senso che per noi la vacanza è un po' come il nostro lavoro,